Eri, eccoci ancora in diretta su Telespazio TV a Masterchef con il bravo Fiorenzo Nisticò, i nostri amici Egidio e il signor Mario. Signora, è ancora al telefono con noi? Sì, sì, sono ancora al telefono, Rossella. Eccoci, signora, ben trovata. Allora, dicevamo, prego. Rossella, sei gentile, a me piace come parli, come ti rapporti con le persone. Scusa se ti tolgo il supporto per te. Ci mancherebbe. Perché è una figlia abbastanza grande. Ah, bene. Di 30 anni. Ah, bene. Siamo là. Io ne ho 25, signora, quindi non siamo inseriti. Allora, giusto che potresti essere inseriti. Bene, mi fa piacere. Guarda, a me fate delle ricette proprio che si può fare qualsiasi persona, perché sono facilissime. È vero, signora. Guarda, a me cucinare piace, però non mi impegno tanto. È un po' pigra, signora. Sono pigra. Eh, è una cosa di molto. Ma le ricette mi piacciono perché sono alla portata di tutti. È vero, hai ragione, signora. Stuzzicano un po' tutti, anche coloro che magari ai fornelli non dedicano tanto tempo. Infatti, infatti. Poi anche tutti, tutti, io parlo, tutti i vostri chef sono bravissimi. Signora, a proposito dei nostri chef, mi scusi, in questo momento Fiorenzo, come vede, ha messo a sciogliere il burro e andiamo ad aggiungere il riso. Vado a togliere il riso. Ha visto che risotto stiamo facendo? È il profumo del mare, signora. Un ottimo primo. Lei lo cucina il pesce quando ha voglia, magari, quando è in vena di cucinare? Sì, sì, lo cucino. Però guarda, Rossella, quando io vado da mia figlia, si fa queste molte ricette. Ah, bene. E sono proprio buonissime. Io te l'ho detto, non tanto cucina a me. Non si applica molto la signora. No, 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 no. Infatti mia figlia lo dice, senti che sono pigra. Comunque, Rossella, io vi auguro una buona serata. Grazie. Vosso seguito, siete tutti, tutti bravissimi. Grazie, signora. Ci chiami qualche altra volta, però, eh? Va bene, Rossella. La ringrazio. Rossella, un saluto a tutti, un bacione particolare a te. Grazie, signora, ricambio con tanto affetto. Sei proprio simpaticissima, veramente te lo dico. Grazie, signora. Buona serata, buona serata. Buona sera a lei, grazie. Io, come ho spiegato, sto tostando il riso, poi là mi finisco il sugo e poi lo unisco dopo. E il brodino ti servirà a mano a mano per allungarlo, poi vediamo come e quando. Pronto? Pronto. Pronto, buonasera. Mi chiamo Marco. Da dove? Siamo da Villa San Giovanni. Da Villa San Giovanni, sì. Sì, da Villa San Giovanni. Esattamente io sono notico, lavoro qua a Villa, sto vedendo questa tradizione. E di dove è esattamente lei? Io sono Veneto. Ah, Veneto, bene. Mi dica, le piace la cucina galabrese? No, sto vedendo la trasmissione che è abbastanza fine, che è praticamente una trasmissione che mi attira anche. Considenti per la trasmissione. Grazie, lei se ne intende di cucina? Le piace cucinare? Eh, io faccio un altro messiere, io sono un perito elettronico. Ah, ho capito. Ma quando è a casa magari qualcosa la sa fare anche lei? Insomma, mi arrangio anche io. Si arrangio, bene. Mi fa piacere comunque che lei ci abbia chiamato, che gradisca la nostra trasmissione. La invitiamo a rimanere con noi. Va bene, grazie, grazie. Grazie a lei. Grazie, molto gentile, grazie. Buonasera. Quindi abbiamo tostato e riso con un po' di burro. Sì, vedi com'è imbiondito un po'? Infatti. Sai com'è caldo? Facciamo una spumata con del vino. Eccolo qua. Andiamo a fuoco. Pronto? Sono Isabella. Isabella, quella di prima? Sì. Isabella, dimmi. Ti volevo dire che ho detto mamma che un giorno mi puoi portare. Sì, ci vuoi venire a trovare, come no? Allora, prendiamo centralino, prendiamo gentilmente il numero di telefono della nostra amica. Possiamo, centralino? Ok, Isabella, ora prendiamo il numero di telefono, così poi parleremo con mamma, d'accordo? Va bene, grazie. Grazie a te, una buona serata, ciao. Grazie, ciao. Ciao, Isabella. Ciao. E il risotto è a posto, così è tostato. Ok. Poi continuerai a cucinarlo insieme al condimento. Pronto? Pronto signora? Vai ad aggiungere i pomodorini. Pronto? Ah, Tindaro, abbiamo aggiunto i pomodorini. Ciao, Tindaro. Ciao, non scusa, ciao. Complimenti allo Chef, eh? Grazie, buonasera. Complimenti, certo, sta facendo le prime e le seconde, eccezionante. Sì, mi fa piacere che le piacciono. Sempre alla grande, sempre alla grande. Il nostro amico chiama dalla Sicilia, anche lui, eh? Da Castro Reale. Eh, ricordiamolo sempre. Dalla Sicilia con furore. Lo ricordiamo sempre perché siete tantissimi dalla Sicilia, Tindaro, quindi ci fa piacere e dobbiamo dirlo. E poi sono tantissimi anche dalla Calabria, non lo dimentichiamo, eh? Certo, come no, anche gli amici calabresi sono tanti. Sicilia, Calabria, fanno una sola migliore, dai. Certo, certo. Tindaro, io ti ringrazio come sempre per l'attenzione che ti mostri verso il nostro programma. Ti invitiamo a seguirci perché... Grazie. Grazie a tutti i posti di studio. Grazie. Un saluto a tutti e anche a tutti. Una buona sedata. Altrettanto a te. Grazie Tindaro, un saluto anche alla tua mamma. Ciao. Abbiamo aggiunto anche le cozze e ora le vongole spusciate. Quindi un bel primo ricco con 500 g di riso, 200 g di cozze, 200 g di vongole, 300 g di cernia, 200 g di pomodorini, della polpa di granchio, code di gambero, prezzemolo, pepe, sale e vino bianco. Pronto? Sì, pronto. Buonasera signora. Buonasera. Con chi parlo? Vino da Messina. Ah, signora, buonasera. Lei ha già chiamato qualche volta, giusto? No, io è la seconda volta che vi vedo. La seconda? E allora, io sono nata a Pellia. Ah, dalle nostre parti, il paese di Fiorenzo, signora? Sì, infatti. Bene. L'ho visto la prima sera il lunedì di Pasqua. Sì, sì. Anche perché io lavoro e stasera ho visto che era a casa, ho detto ora lo accendo, vediamo un pochino se c'è ancora. Ha visto, ha trovato di nuovo Fiorenzo. Infatti. È stata fortunata. Sono stata fortunata. Molto bravo questa ragazza. Grazie signora. Prego, bello. Mi fa piacere vedere un compaesano, anche se non vivo a Sellia. Anche a me, sapete che c'è una compaesana che non è a Sellia e ci sta guardando. Signora, lei è brava in cucina? Mi arancio. Sì, arancio. Mi ha piaciuta la ricetta che ha fatto, quella delle tagliatelle di molti con noi. Sì, arcobaleno. Sì, sì. Ne parlavamo prima, è stata un'ottima ricetta, divertente anche a lavorarci su quella ricetta. Ha ottenuto dei colori ben amalgamati, veramente bella e saporita. Devo dire che l'ho assaggiata, erano ottimi. Con stec e panna, giusto? Sì, stec e panna. Stec e panna, sì. Burro e un pochino di olio. Brava, era attenta signora, brava. Sì, ho fatto un sugo proprio leggero, al massimo. Sì, infatti. Un sugo attivo. Anche perché ci spiegava... Anche perché ci spiegava Fiorenzo che andare a mettere magari del pomodoro lì avrebbe mascherato un pochino i colori, avrebbe nascosto i colori. Quindi era giusto farlo chiaro il condimento. E questa sera continua a stupirci con questo menù a base di pesce, signora. Ha visto? Ho visto, ho visto, risotto con frutti di mare. Riso al profumo del mare si chiama proprio. Sì, risotto al profumo del mare. Perfetto. Bene, la ringraziamo tanto signora. Senta, volevo dirle a che ora cominciate voi il programma? Alle 19.30. Perfetto. Tutte le sere dalle 19.30 alle 21.30. E di giorno signora, quando è a casa e ha tempo di seguire Telespazio TV, può seguirci anche dalle 12.30 alle 13.30. Perfetto. Allora quando sarò a casa, anche perché io lavoro e faccio dei giorni. Ho capito. E vi seguirò. Va bene. Buona serata. Grazie signora. Buonasera signora. Buonasera. Complimenti ancora. Grazie. Grazie a lei. Vengo. E intanto Fiorenzo, che facciamo qua? Allora io vado a sbattere un po' di bianco d'uovo, un po' di albume, perché praticamente mi servirà a perdere un pastino con questo sale. Per il secondo? Sì. Ok, poi vedremo anche gli ingredienti. Intanto sul fuoco lasciamo il condimento, un altro pochino, poi andremo a finire il viso. Pronto? Ci vuole energia, eh, signor Egidio. Non solo lei che è uno sportivo ha energia nelle braccia, anche il nostro amico Fiorenzo e tutti gli chef. Più che nelle braccia ci sono nelle gambe. Nelle gambe lei, è vero. Pronto?